Con essa creo storie di animali, i quali per il mio piacere prendono vita e anche la parola prendono. Non ci credete? Fatelo ascoltare. Grazie, 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 grazie. Oh, che fame, oh che fame, che fame, che fame. Avreste da prestarmi un bel pugno di grano. Oh, no. Mezzo pugno? No. E solo dieci chicchi? No. Nove chicchi? Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Oh, che delizioso profumino manda il vostro formaggio. Che bella fetta. Me ne faresti assaggiare un pezzettino? No! No! Beh, non importa. Via! Berbacco, com'è lenta. Ci metterà un secolo ad arrivare. No, no, no. Di là, di là. Oh, no, no, no. Di là, di là, di là. Giù, su, dove, non hai tanto tempo. No! Che sol nel giardin del re esiste l'erba voglio.